Vincenzo Agnello, il vincitore della Vivi Città, Silvia La Barbera, prima tra le donne. Due vittorie annunciate come da previsioni della vigilia. I primi atleti a tagliare il traguardo della 36esima Vivi Città Palermo al Giardino Inglese sono stati Vincenzo Agnello per gli uomini e Silvia La Barbera per le donne. Il podista di Misilmeri ha un personale di 29.42 e il suo tempo oggi poco sopra i 32 minuti. Ho fatto un allenamento gara, sono cercato di stare tranquillo nella prima parte e poi andare man mano in progressione. Con 36 e 34 Silvia La Barbera conquista la sesta vittoria di questa gara in dieci anni. Ho fatto un allenamento in vista al 10.000 che farei il 14 aprile ad Avellino, è andata bene, io amo correre su strada. In Sicilia si corre anche a Trapani, Barra Franca, Messina e Ragusa, 38 città coinvolte in tutta Italia. A Palermo 3.000 gli iscritti per due tipi di corse, 600 per la gara competitiva di 10 km partita alle 9.30 e gli altri per la passeggiata ludico-motoria di 3 km partita dopo le 11.